Per dire la verità, il viaggio di mare secondo me è stato un viaggio più terribile della mia vita. Ci fermiamo solo sui numeri, però non sappiamo di che. Non possono cercare di ingannare la gente dicendo che non si muore più dopo che abbiamo fatto il trattato in Libia. Non è vero, in Libia si muore ogni giorno. Era molto meglio di morire nel mare che tornare in Libia. Ho pianto molto perché non conoscevo nessuno in questo paese e non capivo bene neanche la lingua. Ho pensato, ma giavolo dove vado io? Ho pensato, ma giavolo dove vado io? Ho pensato, ma giavolo dove vado io? Ho pensato, mi מאri e vado io? Ho pensato,ianeira, le mie città che, ho pensato, ho pensato, environmentllo dove t� o seconds di кабcià,